Mi dica, perché non c'è sosta? Perché costruiscono? È una loro volontà, dottore. Gli spiriti, le vittime del fucile, sono loro a guidarmi. La guidano nel disegno delle planimetrie? Sì. Una volta completate le loro camere, la loro presenza acquista forza. Da qui la casa costruita dagli spiriti. Sì. Quando suona la campana a mezzanotte urlano. I rintocchi li chiamano raccolta per comunicare, usano piani, disegni. Sì. Vogliono che ricostruisca le camere in cui sono morti per passare il confine che ci separa. Il problema è che non sempre so chi è lo spirito con cui parlo. Potrebbe essere uno colpito per puro caso, o la vittima di un crimine, o... o qualcun altro. Lei non crede a una sola parola, ne sono sicura? Ha ragione, no. Io credo solamente a ciò che posso vedere o studiare. Faccia la sua perizia, dottore. E poi scriva ciò che ritiene sia vero a proposito di Sarah Winchester. E se perdesse il controllo della sua compagnia? Al mondo ci sono perdite ben peggiori di quella, dottore. La vedova Winchester, dal 22 febbraio al cinema.